chiamatelo pure prendete il guanto chiamatelo già fatto già fatto eccolo lì se qualcuno vuole chiamarlo chiedete pure il guanto e si c'è il premietto sul guanto bravissimo molto bene avanti aspetta che c'è uno da stefano che sta aspettando ok ti è piaciuto se volete chiedere il video mandate l'anteprima per addestrarvi così ci va periodo lungo e non meno di tre mesi se vogliamo farlo bene poi fatto male mesetto già le cose ci sono però più o meno tre mesi si tre mesi per avere una base poi dipende all'addestramento è la passeggiata la caccia l'esibizione